Buongiorno, bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna a stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, venerdì 23 ottobre 2020. Naturalmente ancora una volta quasi tutta l'attenzione è concentrata sulle vicende legate alla pandemia, sulle modalità con cui si cerca di contrastarle a macchia di leopardo in tutta Italia. E allora andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Conte, siamo pronti a intervenire. Situazione molto critica, dice il Premier, una settimana per decidere se far uscire solo lavoratori e studenti. Non lo chiameranno lockdown, ma di fatto diventa esattamente così. Mille casi in più rispetto a ieri con 7500 tamponi in meno. Il capo dell'Agenzia del Farmaco, io contagiato per una imprudenza. I racconti dei contagi sono sicuramente molto importanti per farci comprendere quanto sia necessario proteggersi ed essere davvero prudenti. leggiamo il richiamo in prima pagina. La situazione si sta rivelando molto critica, mette il Premier Giuseppe Conte parlando alla Camera. Il governo però è pronto a intervenire nuovamente se necessario, con tempi già definiti. Una settimana, poi in mancanza di miglioramenti, non è esclusa l'idea che a poter uscire di casa siano solo studenti e lavoratori. Ieri record di positivi 16.079 con 7500 tamponi in meno effettuati rispetto al giorno precedente. E intanto, vedete a centro pagina la fotografia, dopo l'ordinanza lombarda sulle superiori, i sindaci contro il governatore Fontana, no alle elezioni a distanza. È un richiamo che troveremo anche a proposito del Ministro Azzollina, che si dice contraria alla didattica a distanza in molte regioni dove è stato adottato questo provvedimento. Leggiamo i sindaci lombardi, a cominciare da quello di Milano, Sala, contro il governatore Fontana, no alle elezioni a distanza. Contraria alla soluzione adottata è anche il Ministro Azzollina. E vediamo i controlli, siano rigorosi per evitare chiusure totali. Parla Lamorgese, la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, di vieti e chiusure sono necessari per evitare blocchi totali. Siamo pronti a collaborare con i comuni. E leggiamo anche un inizio di questo fondo di Pierluigi Battista che titola Le città impotenti. Le città italiane vogliono molto prima delle regioni, entità amministrative, vengono molto prima delle regioni, entità amministrative e istituzionali costruite dalla legge e dai confini disegnati a penna come stati nazionali scaturiti dalla dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale. E se proprio si vuole tornare indietro esistono dapprima della fondazione del nostro Stato unitario. Con la pandemia stiamo scoprendo che da un punto di vista sanitario le città, pur forti di una storia, di una cultura, di una identità e persino di un orgoglio municipale, mentre non esiste o è debolissimo un orgoglio propriamente regionale, non contano nulla, mentre le costruzioni che di storia ne hanno quasi zero, le regioni, dettano legge nel campo della sanità, con il risultato paradossale che Milano conta metà dei contagiati di tutta la regione Lombardia, che lo stesso vale per Roma con il Lazio, per Genova con la Liguria, per Napoli con la Campania, ma per Milano, Roma, Genova, Napoli, altre città, capoluoghi di regione, possono pochissimo nella battaglia contro il virus. E se i piccoli centri, tutto sommato, sono più protetti da un sistema di medicina territoriale discutibile, ma pur sempre meno distante, più presente, più riconoscibile, le metropolitane, le metropoli, travolte più drammaticamente dal contagio si smarriscono. È una riflessione sicuramente interessante quella proposta da Pierluigi Battista. Passiamo alla stampa, l'altro quotidiano nazionale che parla ancora dei dieci giorni della verità. Il ministro Azzollina parla della scuola e i sindaci contro le regioni. Bisogna fare le lezioni in aula. Naturalmente però ogni regione si sta comportando diversamente. E la frontiera di Conte. Valutiamo gli effetti del coprifuoco prima di altre misure. L'ipotesi del semi-lockdown. Il virus non si ferma ieri 16.079 positivi e 136 morti. Slitta il Recovery Fund disponibile solo dopo giugno. E leggiamo. Il numero crescente di contagi preoccupa sempre di più il governo, ma il Premier ha spiegato ai ministri di voler attendere almeno dieci giorni prima di misure più severe. Poi c'è la prospettiva di un lockdown morbido in tutta Italia, che avrebbe però pesanti ricadute economiche e sociali. Slitta il Recovery Found europeo ed è scontro sulla didattica a distanza nelle scuole, criticato dalla ministra Azzolini e dai sindaci lombardi. Leggiamo questa riflessione con il dossier preparato proprio da Repubblica, che dice Milano ogni notte perderà due milioni di euro con appunto le chiusure notturne. E la pandemia, creatura mitica di noi umani, è Alessandro Baricco, che parla. Leggiamo anche qui, così come si riportava Battista sulla prima pagina del Corriere della Sera, riportiamo questa riflessione di Ezio Mauro, che parla dell'avamposto delle città. L'esperienza e la conoscenza sono la base del sapere che regola le attività umane, riducendo il peso dell'imponderabile e il margine dell'azzardo ogni volta che dobbiamo prendere decisioni. Questo vale per l'individuo, ma vale anche per la politica, che nelle sue varie forme di governo deve spesso decidere anche per noi, per i cittadini, dettando norme prescrittive di comportamento. Non c'è dubbio che nell'allentamento estivo del codice di sicurezza che c'eravamo autoimposti in primavera, insieme con i numeri via via più ridotti dell'infezione, ha pesato la convinzione che avevamo già sperimentato la pandemia, i suoi attacchi, le misure di contenimento e di salvaguardia, rallentando l'insidia del virus. Riflessione che poi ovviamente prosegue nelle pagine interne. Altro tema di giornata è ancora una riflessione sulle parole di Papa Francesco che l'altro giorno, proprio domenica, aveva aperto alle coppie gay e sentiamo quello che dice Eugenio Scalfari, il fondatore proprio di Repubblica. Ho incontrato Papa Francesco molte volte, lo comorbi, perché il mio giornale, Repubblica, mi aveva incaricato di incontrarlo ed io ci riuscì con relativa facilità. Anche il Papa aveva voglia di parlare con persone interessate a conoscerlo e quindi fu abbastanza semplice. Sua Santità mi invitò a Palazzo di Santa Marta, io ci arrivai senza difficoltà e fui rapidamente introdotto in una sala al piano terreno di quel palazzo e lì il nostro rapporto iniziò con molta amicizia fin dal primo momento. Io ne fui stupito mentre Papa Francesco ne era davvero interessato e così cominciò. Sono perfettamente in grado di fare il resoconto di quella che ci siamo detti in decine di incontri a Santa Marta e l'articolo davvero molto interessante, un racconto di vita vissuta, lo ritroviamo nelle pagine interne del quotidiano Repubblica. Intanto vedete a centropagina campeggia questa fotografia, questa fotonotizia con le donne che contestano il verdetto della Corte Costituzionale in Polonia e si titola Aborto proibito, la Polonia scende in piazza. E allora andiamo a vedere su Avvenire che è il giornale dei Vescovi Cattolici, dei Vescovi Italiani che parla di e già battaglia di classe. Anche in Puglia e Marche, didattica a distanza per le superiori, la protesta di Azzolina, il ministro della pubblica istruzione, e dei sindaci. Casi ancora in aumento, le vittime a quota 136, Milano preoccupa nelle regioni nuove restrizioni. Leggiamo anche il richiamo in prima pagina. La ministra dell'istruzione scrive ai governatori di Lombardia e Campania, qui si sono unite Lazio, Puglia e Marche, dopo le ordinanze sulla didattica a distanza alle superiori, garantire il diritto alla salute ma anche allo studio. Ma il governo non impugnerà le ordinanze. Conte valuta nuovi interventi per i prossimi giorni e i numeri del contagio si fanno infatti ogni giorno peggiori. Ieri altri 16.000 casi in 24 ore con meno tamponi e 136 vittime. Le terapie intensive sfiorano quota 1000 in tutta Italia, mentre in Lombardia si registrano un quarto dei positivi. Preoccupazione per la situazione di Milano, il ministro della salute Speranza, presto, test rapidi anche nelle farmacie. E intanto si parla proprio di scuola nell'editoriale dell'Avvenire. Scuola, luogo del progetto, grandi attività essenziale da garantire, parla Alessandro Zaccuri. Lezioni, interrogazioni, distanze da garantire e programmi da rispettare in tempi di pandemia. La scuola è tutto questo, certamente, ma è anche molto di più. È il progetto che un Paese fa su di sé, la sua immaginazione del futuro. Da come è strutturato e tutelato il sistema scolastico, si capisce molto delle convinzioni e delle speranze collettive. Le società giovani, dal punto di vista culturale, prima ancora che demografico, sono quelle nelle quali le aspettative restano più alte e anzi crescono continuamente, assecondando un desiderio di esplorazione della realtà che assume i toni di una sfida gioiosa e ottimista. Proprio perché si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, la scuola deve parlare il loro stesso linguaggio, deve tenere il passo con una voglia di novità della quale l'innovazione tecnologica rappresenta l'elemento più visibile senza per questo essere esclusivo. Una scuola senza ambizioni, al contrario, è il segnale di un Paese stanco, incline alla rassegnazione del così va il mondo che poi un altro modo per dire che così si è sempre fatto, perché darsi la pena di cambiare. Tra marzo e aprile, quando l'Italia è stata sconquassata dalla tempesta del coronavirus, la scuola ha mostrato il suo volto migliore, non senza accusare limiti e mostrare contraddizioni, lo sappiamo, ma quella era un'emergenza, si faceva quello che si poteva, si è fatto molto da parte di tutti, spesso si è fatto molto bene. Da allora però sono trascorsi almeno sette mesi e l'imprevedibile è una categoria alla quale non è più consentito fare appello. Si sapeva che con l'autunno i casi di covid-19 si sarebbero moltiplicati, si sapeva che le aule scolastiche e universitarie sarebbero stati luoghi da tenere sotto osservazione. Adesso, a poche settimane di distanza, da una travagliata ripresa delle lezioni in diverse regioni, dalla Lombardia alla Puglia, ritorna la soluzione della didattica a distanza, anche se al momento, dati alla mano, le scuole non sono affatto luoghi di diffusione del contagio. Il problema, si dice, è prima e dopo le ore passate a scuola, ma tant'è. Si è partiti dalle superiori al momento, ma con il motivato timore che a breve si procede a cascata e di rimbalzo, fino a una sospensione delle attività estesa all'intero sistema, dalle primarie all'università. E poi via via ancora si prosegue nell'analisi. E intanto le parole del Papa, leggiamo su questa fotonotizia, tutela civile per i gay, ma non il matrimonio, una precisazione doverosa perché le parole del Papa sono state mal interpretate da qualcuno, a bella posta tra l'altro. Per cui è stato necessario ribadire questo concetto. E intanto Libia, i turchi padroni grazie alle navi italiane, e si parla della vicenda dell'immigrazione e soprattutto quella clandestina. Intanto Santa Sede e Cina rinnovata di due anni l'intesa sui vescovi. Le due parti hanno concordato di prorogare la fase attuativa sperimentale dell'accordo provvisorio per altri due anni. Così si è stabilito tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese in merito alla nomina dei vescovi. Era questo l'ultimo titolo di avvenire di cui ci occupiamo oggi. E andiamo avanti con il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che si occupa naturalmente delle vicende economiche. Visco, il governatore di Banca Italia, che avverte che la crisi colpirà anche le banche. E leggiamo il richiamo. Ci sono anche le banche tra le potenziali vittime dello shock pandemico. L'allarme è stato lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. La prevedibile crescita dei crediti deteriorati, ha detto Visco intervenendo ad una videoconferenza sulla stabilità finanziaria organizzata con l'Università Bocconi, deve spingere gli istituti a incrementare gli accantonamenti. Massima attenzione inoltre va rivolta anche all'alto indebitamento delle imprese non finanziarie. E intanto si parla anche dell'emergenza virus propriamente detta con Covid. 2.000 volontari per i tracciamenti, pronti nuovi blocchi. Questa è una notizia che altri quotidiani in prima pagina non hanno riportato, ma è fondamentale. ed è la promessa del Ministero di poter dirottare appunto 2.000 persone all'interno delle varie ASL per aiutare a tracciare i contagiati e i loro parenti, i loro contatti, perché questo permette poi di contenere la diffusione del contagio. Sicuramente se ne parlerà anche nei prossimi giorni. Leggiamo questo richiamo in prima pagina. Un contingente di 2.000 operatori per potenziare le attività di tracciamento. Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con le regioni. I 2.000 operatori verranno individuati con un bando della protezione civile. 1.500 saranno destinati ad effettuare tamponi, test e tracciamento, mentre altri 500 lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. Il Premier Conte intanto apre a nuove strette. Siamo pronti a intervenire, ha detto il Premier. La linea di prudenza mantenuta finora rischia infatti di franare sotto il peso dei numeri. Ieri il record di 16.072 nuovi casi con il rapporto positivi tamponi al 9,4%. Escalation di casi in Francia, Germania e Spagna. In Francia addirittura la situazione sembra ormai essere sfuggita di mano ed è assolutamente fuori controllo. Vediamo quest'altro titolo a centropagina con la fotonotizia Rigenerazione urbana. Catella punta su Roma e sui fondi dell'Unione Europea. Passiamo ai giornali regionali con il mattino che titola Campania, 10 giorni per evitare il lockdown. Vedete questo è un tema ricorrente, abbiamo ascoltato le parole del Premier, ma intanto Napoli e provincia il 18% è positivo, un dato davvero impressionante. Comitato tecnico scientifico e Ministero della Salute in Allarme. Ricciardi, il coordinatore della Task Force per la pandemia, parla di contagi fuori controllo nell'area metropolitana. Via ai nuovi divieti. Leggiamo il richiamo in prima. Continua a correre il Covid-19 a Napoli in Campania, positività al 18%, praticamente il doppio della media nazionale e aleggia lo spettro del lockdown. Secondo quanto trapela dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute, se entro dieci giorni l'indice di diffusione non dovesse calare, si considererebbe la chiusura di alcune zone urbane. Vedete infatti una delle ipotesi allo studio in questo momento da parte del Governo nazionale è confini chiusi tra regioni e test rapido in farmacia. La situazione è molto critica e Conte non lo nasconde. Il Governo non esclude ora una serie di misure più stringenti contro il contagio, come impedire la mobilità tra le regioni. Anche la Calabria è pronta al lockdown. Naturalmente non si chiamerà lockdown, si tenterà di evitare di dare l'impressione di aver fermato di nuovo il Paese, anche perché davvero non possiamo permettercelo dal punto di vista economico, ma si studiano delle soluzioni intermedie che però fanno davvero rima con il lockdown. E intanto il grande problema degli anziani infetti al Trivulzio, la lezione che Milano non ha imparato, riporta il mattino. Torna la paura al più albergo Trivulzio di Milano, già epicentro della prima ondata, Covid, sono già 19 i positivi. E a centropagina troviamo anche un richiamo al lavoro, al lavoro che sparisce in Campania, travolto non soltanto dalla crisi derivante dalla pandemia, ma da crisi endemiche che si stanno ora amplificando. Whirlpool chiude cronaca di un addio più che annunciato. Lo stabilimento di Napoli fallito, l'ultimo tavolo, palla a Conte per un disperato appello agli Stati Uniti. Leggiamo. L'ultima mediazione per evitare la chiusura della Whirlpool è affidata al Premier. Ieri sera, durante la riunione di governo, Conte è stato informato del fallimentare esito anche dell'incontro con azienda e sindacati. Whirlpool non ha cambiato di un millimetro la sua posizione per la multinazionale americana Stop il 31 ottobre alle attività produttive a Napoli. È una situazione che nei prossimi giorni potrebbe diventare davvero esplosiva nella regione Campania. E intanto un'analisi da parte di Luca Ricolfi a proposito delle misure per evitare la diffusione della pandemia, gli errori dell'inverno ripetuti in autunno. Ma come si fa a non capire, si legge in questo articolo, e come facciamo noi cittadini a sopportare tanta leggerezza? Chiedo scusa al lettore per il modo crudo con cui inizio questo articolo, ma dopo mesi passati a cercare di mettere il mondo politico di fronte ai numeri di questa epidemia sono sgomento. A quanto pare il manipolo di politici e burocrati della sanità che ormai da otto mesi è padrone delle nostre vite e settimana dopo settimana stabilisce, senza chiedere il permesso a nessuno, tantomeno al Parlamento, che cosa possiamo fare e che cosa no, non ha ancora capito. E questa è una mare riflessione che purtroppo comincia a serpeggiare un po' in tutti gli ambienti, anche quelli sociali. E questo preoccupa perché quando i cittadini avranno smesso di credere alle decisioni della macchina della pandemia, del contrasto alla pandemia, diventerà davvero difficile arginare la diffusione del contagio. Naturalmente a centropagina c'è anche una fotonotizia che riguarda il calcio perché ieri era giornata di UEFA League e il Napoli è perso in casa, battuto dall'AZ, una Z tra l'altro decimato come titola appunto il mattino, beffa per il Napoli e c'è il punto della situazione con l'Europa, con l'Europa non si scherza, in Champions League e in Europa League abbiamo visto, in UEFA League abbiamo visto che basta commettere un minimo errore e si rischia di pagare amaramente. Spostiamoci in Puglia dove troviamo addirittura un Covid scatenato, l'Italia agitata, la Gazzetta del Mezzogiorno parla di boom di casi in Puglia, lezioni a distanza nell'ultimo triennio delle superiori. La decisione di ieri sera del governatore Michele Emiliano che ha fatto e diffuso anche un video per spiegare le ragioni che sono legate soprattutto alle modalità di trasporto che rischiano di andare in tilt con i pendolari. E allora oltre 16 mila nuovi contagi, Conte preoccupato, governo pronto a intervenire ancora in rapida crescita, di nuovo al 9,4% il rapporto tra colpiti e tamponi. E intanto il governo vuole test rapidi da medici, di base e farmacie. Palestre e piscine arriva un'altra stretta ai protocolli, una stretta che tra l'altro fa dire ai proprietari di palestre e di piscine che così diventa insostenibile. E intanto vaccini anti-influenzali, Puglia distribuzione al via. Anche questo fa parte di una comunicazione data dal governatore pugliese. E leggiamo ancora Cassandre d'Ufficio ostili alla crescita, scrive Federico Pirro, mentre sveglia Italia contro il virus che sfugge al controllo e il fondo dell'ex direttore Lino Patrono. E andiamo avanti e occupiamoci ancora del messaggero, messaggero che titola, il messaggero di Roma, che titola le regioni pronte a chiudere, i tamponi anche in farmacia, l'indice RT, quello del contagio a 1,5, quindi ogni persona riesce a contagiare una persona e mezzo. Il governo disposto a dare l'ok alla stretta dei governatori, Sardegna e Sicilia frenare gli ingressi, mascherina, obbligo in palestra. E leggiamo anche a centropagina, il virus ormai corre nelle scuole didattica a distanza, scontro tra Azzolina e Fontana, il governatore della Lombardia. Ma leggiamo ancora Trivulzio, tornano i contagi e la paura nell'ospizio milanese con 19 positivi. E il fondo in taglio alto a sinistra dice il prezzo alto da pagare per gli eccessi dell'estate, Covid fuori controllo, facendolo risalire tutto al periodo estivo quando davvero tutti hanno allentato i vincoli e anche i comportamenti individuali. Intanto il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, loro vincitori, noi vinti. La realtà è che nessuno vuole fare i conti con il vero 29 italiano. Con il cortocircuito istituzionale italiano, anche senza la pandemia, marciavamo spediti verso un declino strutturale che faceva dell'Italia il grande malato d'Europa. Con la nuova grande depressione mondiale, se non affrontiamo questo problema, rischiamo la eversione nel mezzogiorno e la polverizzazione dei residui primati del nord. Soprattutto saremo in coda anche nel nuovo ordine globale. E questa è la riflessione del giornale diretto da Roberto Napoletano, governatori flop, come perdere sette mesi e farsi nuovamente fregare dal Covid. Un'altra amara riflessione, ma è l'ultima di cui ci occupiamo in questo aggiornamento, in questo nostro appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna domani, stessa ora, stessa rete. Grazie per essere stati con noi. Non andate via, restate con i nostri programmi. Grazie a tutti.